Gli anni dal 67 al 61 segnano l'ascesa inarrestabile di Pompeo. Come era accaduto in passato, anche questa volta è una situazione di instabilità e di crisi a far sì che il Senato affidi le sorti della res pubblica nelle mani di un generale di successo. In questi anni Roma si trova infatti ad affrontare un duplice pericolo. In Asia Mitridate VI aveva ripreso a minacciare la stabilità della provincia romana d'Asia. Nel Maregeo le incursioni dei pirati ostacolavano il commercio marittimo e l'approvvigionamento alimentare di Roma. Suppressione dei cavalieri, la classe che aveva più interesse a eliminare la minaccia dei pirati e dei popolari e grazie all'appoggio di un giovane senatore, Caio Giulio Cesare, Pompeo si fece concedere dal Senato dei poteri eccezionali per risolvere la questione della sicurezza del Mediterraneo. Per tre anni gli venne concesso il comando supremo su tutti i mari e le coste dal Bosforo fino allo stretto di Gibilterra. Con un esercito di 20 legioni e una flotta di 500 navi, mai un solo uomo aveva avuto poteri tali che ponevano l'Italia e Roma sotto la sua unica autorità militare. Nel corso di una campagna lampo di tre mesi, da marzo a maggio del 67, Pompeo distrusse la pirateria nel Mediterraneo. Forte di questo successo, l'anno successivo, il 66 avanti Cristo, ottenne nuovamente pieni poteri per chiudere l'annoso conflitto con il re del Ponto Mitridate VI. Una legge dall'ex Manilia gli confermava il comando supremo delle forze armate per un periodo illimitato. Gli dava il comando della guerra e il diritto di stringere alleanze e concludere trattati. In due anni, Pompeo annientò Mitridate, ampliando ulteriormente l'influenza romana in Oriente. I successi in Oriente accrebbero enormemente il ruolo di Pompeo per due motivi. Da una parte, perché gli erano stati conferiti poteri eccezionali, come il comando illimitato nel tempo di tutte le forze armate. Dall'altra, il fatto che Pompeo si era costruito un forte potere personale in Oriente, creando nuove province, come per esempio la provincia di Siria che comprendeva anche la Palestina e affidando i regni confinanti a sovrani a lui fedeli. Quale sarebbe stato l'atteggiamento del potente generale al suo ritorno a Roma e soprattutto come avrebbe reagito il Senato di fronte a una personalità che nel giro di dieci anni aveva accumulato poteri così ampi guadagnandosi un'influenza e un peso politico che potevano oscurare l'autorità dell'oligarchia senatoria?